Rigenerare e riqualificare le coste della provincia di Bari per incentivare il turismo e quindi lo sviluppo economico. Facoltà di architettura ed economia dell'Università di Bari insieme per studiare nuove idee per la valorizzazione del territorio, senza trascurare la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. L'idea si è concretizzata attraverso una ricerca commissionata dalla provincia di Bari all'ex team dell'Università di Bari, società spin-off esperta del settore. Alla base del lavoro l'osservazione di alcuni casi turistici mondiali dai forti requisiti ecosostenibili in Spagna, Portogallo, Turchia, Inghilterra, Francia, Australia, Thailandia, Brasile, Uruguay, Indonesia, Madagascar e Vietnam. Lo scopo è comprendere come i risvolti architettonici ed etici possano sposarsi con la gestione manageriale ed economica di strutture ricettive e gestioni territoriali. Insomma, a partire da una serie di esempi pratici, gli esperti hanno studiato come concepire la costa con meno virgoli urbanistici, specie quelli di leggi ormai vetuste, ma nel rispetto totale delle caratteristiche tipiche della terra di Bari. Per fare ciò sono stati presi in considerazione alcuni parametri, come ad esempio il flusso turistico delle aree sottoposte ad analisi, l'osservazione della concorrenza presente sul territorio e l'incidenza economica che il turismo ha avuto nella regione Puglia e nella provincia di Bari durante il periodo di osservazione, in modo da capire quali siano state le performance economiche del settore all'interno di economie di altri paesi differenti dalla nostra. Noi abbiamo studiato degli esempi in Italia, in Europa e nel mondo. Abbiamo visto che ci sono esempi in Inghilterra, ci sono esempi in Australia, dove queste strutture ricettive mirano più alla qualità diffusa dell'architettura e sfruttando quelli che sono i materiali locali e sfruttando anche i sistemi di ecosostenibilità, come il tetto in paglia o il pavimento di sabbia, perché no. L'importante è avere qualità e non impattare la costa.